Un mitico di studio, dove ci sarà tutta la commissione medica. Quello che è l'obiettivo di oggi è dare più informazioni possibili. Voi siete i primi attori. Grazie a voi, forse un domani sarà un visato veramente. Il nome? Braccio dominante, destra, destra. Grazie. Enrico Mariano, un blu. L'apputazione alto, quello di destra, posto. Tutti i pugili in un modo o nell'altro sono dei testardi. Alcuni di loro sono convinti di saperne sempre più di tempo. In verità, anche se hanno torto marcio, anche se insistere a volte può portarli alla rovina. Se non tengono il punto fino alla fine, allora non sono dei veri pugili. Cero, ci sono e ci sarò. Adesso tocca a voi.